Ciao cari amici, procedono le esercitazioni nucleari in Russia, su questo purtroppo non parlano molto i nostri giornalisti, il nostro mainstream occidentale preferisce di non affrontare questa tematica, ovviamente la tematica è molto preoccupante proprio perché per via di scelerate decisioni statunitensi e inglesi, quindi gli inglesi e gli americani stanno tirando per il collo il segmento politico dell'Europa occidentale in una guerra termonucleare contro la Russia, una cosa veramente drammatica e terribile soprattutto per l'Occidente perché, sottolineo, per le decisioni degli anglosassoni l'Europa occidentale rischia di affrontare una guerra, quindi gli inglesi staranno lì nella loro isoletta con americani che stanno lì negli Stati Uniti d'America a bere il tè e a guardare sui notiziari, sulle loro televisioni, come l'Europa brucerà in un apocalisse nucleare, questo è ciò che stanno facendo gli anglosassoni. Noi abbiamo visto come il premier britannico e anche ministro degli esteri e anche ministro della difesa, negli ultimi giorni hanno provocato diverse volte la Russia con le minacce molto esplicite, in pratica costringendo Putin di reagire con l'inizio di esercitazioni nucleari, non mancano anche segnali preoccupanti dagli Stati Uniti d'America dove come avete visto ieri ad esempio nel congresso diversi personaggi ormai chiaramente dicevano che bisogna colpire, bisogna dare possibilità agli ucraini di colpire il territorio della Russia con le armi statunitensi a lungo raggio, se prima questa era dichiarata diverse volte un'opzione non utilizzabile, americani hanno detto noi assolutamente non daremo le armi agli ucraini per colpire il territorio russo, se vi ricordate su questo loro davano le loro garanzie, adesso ovviamente nessuno ormai si sofferma a pensare neanche minimamente sul fatto che può essere pericolo di una guerra nucleare, può essere pericolo di una risposta da parte della Russia, loro semplicemente affermano che non c'è nessun male nel fatto di dare le armi a lungo raggio agli ucraini, colpire i territori della Russia con i missili, con le bombe guidate, tra l'altro queste cose stanno già avvenendo, il territorio della Russia è stato già diverse volte colpito con missili statunitensi Attack MS, con le bombe plananti provenienti addirittura anche dalla Francia, con i missili Scalp, con i missili Storm Shadow, che sono cose simili, tra l'altro una parte di questi missili è stata trasferita anche dall'Italia, quindi noi stiamo di fronte a un coinvolgimento sempre più esplicito dell'Occidente e della Nato in questa guerra, ovviamente i russi lo capiscono e i russi a questo punto dicono noi stiamo preparando una risposta per la Nato che eseguiremo utilizzando i missili e le armi a nostra disposizione, armi tattiche contestate nucleari. Ovviamente si parla molto di pericolo, di una tale azione, certo che i pericoli sono alti, si tratta di armi nucleari anche se le loro potenze saranno riduttive, comunque diciamo che armi nucleare tattiche russe, la potenza massima può raggiungere quelle che erano le bombe di Hiroshima e Nagasaki, quelle che americani hanno buttato all'epoca, alla conclusione della seconda guerra mondiale, sopra le due città giapponesi. Si tratta comunque di armi abbastanza potenti, come potete capire se i russi iniziano a utilizzare queste armi, quindi questo sarà l'inizio di una fine dell'Europa occidentale. Tanti dicono che in realtà le armi nucleari tattiche non sono così proprio devastanti, questo è vero. In effetti se noi vogliamo essere obiettivi, cari amici, dobbiamo pensare che tra un'arma nucleare tattica, dalla dimensione di una bomba di Hiroshima e un'arma strategica nucleare che contiene diverse testate nucleari con potenza molto più grande di quelle tattiche, c'è un'enorme differenza. Diciamo che se sopra una città come Warsawa, in Polonia, oppure altre città occidentali esplode un'arma nucleare tattica russa della dimensione della bomba di Hiroshima e Nagasaki, sicuramente ci sarà grande distruzione, sicuramente ci sarà enorme vampata di radioattività, però i danni saranno molto minori rispetto all'utilizzo di una qualsiasi testata strategica e ad esempio dal punto di vista di radioattività sicuramente saranno meno danni rispetto a quelle che sono stati durante l'esplosione di una centrale nucleare come Chernobyl o come Fukushima, ad esempio. Quindi qua è sbagliato pensare che se russi utilizzeranno un'arma nucleare tattica su Warsawa, tutta Polonia morirà per le radiazioni, assolutamente non avverrà niente del genere, probabilmente anche molte persone nella stessa città di Warsawa si salveranno, avranno poi una lunga vita come è successo anche a Hiroshima e Nagasaki, molte persone che sono rimaste anche relativamente vicino al luogo dell'esplosione delle bombe, hanno sopravvissuto e hanno vissuto a lungo, e a lungo andare si è visto che quel tipo di radioattività ha un'interferenza sul corpo umano molto minore rispetto alla radioattività che sprigiona da un reattore di una centrale nucleare che esplode. Qua, cari amici, ovviamente molti esperti dicono che non c'è niente di preoccupante, io ieri ho letto un articolo allucinante scritto da un esperto statunitense che quasi dice ma sì, ma va bene, tanto una guerra termonucleare con l'utilizzo delle arme tattiche non è poi l'apocalisse e così via. Da una parte sì, oggettivamente è vero, non è così distruttiva come arma nucleare strategica, però amici stiamo parlando comunque di distruzione di enorme quantità di edifici, di persone, strutture, e io voglio rifiutare con tutto il mio cuore, con tutta mia mente, anche un solo pensiero che questa cosa possa diventare reale. Però purtroppo, cari amici, i nostri partner anglosassoni fanno di tutto per rendere questa cosa reale, e ieri abbiamo visto che i russi hanno già svolto la prima fase delle esercitazioni, sottolineo che questa cosa non viene affrontata nei media occidentali con dovuto attenzione, soprattutto nei media occidentali europei, gli europei continuano a essere tenuti all'oscuro del loro destino, mentre gli anglosassoni li stanno tirando dritto nella guerra termonucleare, è una cosa veramente allucinante, e questo io non riesco a comprendere, non riesco a capacitarmi perché e come mai accade tutto questo. Dall'altro canto, ieri Vladimir Putin è giunto in Belorussia. In Belorussia perché Putin è arrivato in Belorussia? Perché Putin in Belorussia, con Presidente Lukashenko, insieme inizieranno la seconda fase delle esercitazioni nucleari, voi sapete che Belorussia ha le armi nucleari perché Russia ha ceduto alla Belorussia una parte del proprio arsenale nucleare, si tratta soprattutto di armi nucleari tattiche, ma ci sono anche missili strategici tra l'altro. Su questo nel trattato non viene specificato quanti, di che tipo, di che tipologia, ma ci sono i missili strategici, non sono tanti, però sono per lo più armi nucleari tattiche che ha la Belorussia, e proprio armi nucleari tattiche saranno utilizzati, ma ieri già ci sono stati diversi esperti russi, ad esempio uno di questi è Artamona, fu una persona molto intelligente, un grande esperto che tra l'altro fa parte degli esperti che partecipano alla commissione presidenziale, cioè lui è quello che suggerisce le varie analisi e vari scenari a Presidente Putin, e Artamona, fieri in diretta televisiva, ha detto che, ma voi pensate che Putin è arrivato da Lukashenko e loro faranno solo esercitazioni con le armi nucleari tattiche, lui dice a mio avviso lì si sta preparando anche l'arsenale strategico, perché comunque se volevano fare esercitazioni solo con armi nucleari tattiche, potevano fare semplicemente una centrale operativa congiunta, tra esercito russo e esercito bielorusso, facevano solite prove di armi nucleari tattiche, in una settimana finiva tutto, se è arrivato il leader del paese a un altro leader del paese, vuol dire che saranno svolte le esercitazioni che comprenderanno i meccanismi di alta decisione, quindi da partire dal Presidente, Consiglio di sicurezza nazionale, Comitato straordinario per l'utilizzo delle armi nucleari strategici, tutta la catena dell'utilizzo dell'arma nucleare strategica sarà messa nelle condizioni di svolgere dei lanci dei missili durante un'ipotetica situazione di guerra contro l'aggressore occidentale, quindi se Putin è arrivato lì di persona, vuol dire che Putin e Lukashenko faranno sul territorio di Belorussia le esercitazioni dell'utilizzo delle armi nucleari strategici, qua gli occidentali dovrebbero come minimo rimanere diciamo in un silenzio riflettivo, perché chiaramente gli scenari dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche non prevedono i colpi contro la Gran Bretagna o Stati Uniti d'America, per primi saranno colpiti i territori europei, soprattutto l'Italia tra l'altro. L'Italia è prima nella lista per due motivi, uno per la presenza degli armi nucleari d'attacco sul territorio dell'Italia, armi nucleari statunitensi, due per la presenza della base in Sicilia che viene considerata la base di comunicazione della Nato più importante, quindi cari amici, qua non ci sono dubbi, l'Italia sarà polverizzata. E se prima questo era semplicemente un ordine operativo da attivare nelle situazioni di attacco nei confronti della Russia, oggi questo è già scenario reale, di esercitazioni militari reali. Immaginate cosa succede, quale sarà il prossimo passo. Io non voglio assolutamente neanche pensare, rifiuto con tutto il mio cuore di immaginare ciò che avverrà, però questa è la realtà oggettiva oggi, quindi pensiamoci bene tutti quanti. Io ieri ho condiviso video dell'arrivo di Presidente Putin in Belorussia, la sua breve conferenza con Lukashenko, hanno fatto la conferenza a mezzanotte, tra l'altro mi fa ridere che i nostri giornalisti qua in Italia hanno dato per moribondi sia Putin che Lukashenko in questi anni. Hanno detto che Putin ha una malattia, che non ce la fa, non riesce, che cammina male, ha una postura strana, riceve dei farmaci speciali. Lukashenko è anche scomparso, non c'è, morto, subito le teorie, subito è apparsa quella cretina di Tikhanovske che gli occidentali hanno proclamato Presidente di Belorussia, mentre questa abita in Germania, sostenuta dalla CIA. Qua si raccontavano un sacco di balle su stato di salute di entrambi i leader, sia Putin che Lukashenko, per anni sono stati dati moribondi qua, dai nostri giornalisti occidentali. Ieri questi due personaggi, quasi a luna di notte, davano un'intervista ai giornalisti, lavoravano, io ho condiviso questo video, andate a vederli, io a luna di notte, nei miei 44 anni, sembro più stracciato, distrutto e demolito dalla vita che questi due simpatici vichietti. Andate a vedere e capirete il livello delle balle che a noi ci raccontano i nostri giornalisti occidentali. Comunque questi personaggi si sono incontrati, sicuramente questa settimana sarà molto decisiva, questa è la prossima, perché si svolgeranno queste esercitazioni con le armi nucleari tattiche e strategiche sul territorio di Belorussia e qua bisogna dire che a queste esercitazioni partecipano anche i riparti finale esecutivi. Cosa vuol dire? Che non si tratta semplicemente di un'esercitazione dal punto di vista di riparto decisionale, cioè il Presidente ha dato un ordine, poi c'è stata tutta una serie di comunicazioni, attivano il sistema, no no, andranno anche in volo aerei, porteranno dei missili, andranno in giro sul territorio i portatori dei missili terreni, le macchine speciali, saranno utilizzati anche le navi, i sottomarini, quindi fino all'ultimo riparto esecutivo lavoreranno tutti in questo scenario in cui stanno per colpire l'Occidente, non stanno per colpiscono l'Occidente, perché il scenario è quello, lanciare missili contro l'Occidente, missili strategici e le armi tattici nucleari, questa è la tragedia, cari amici, se noi siamo arrivati a questo punto, vuol dire che l'impianto anglosassone, l'oligarchia anglosassone, ha riuscito a spingere questa guerra ancora di più verso una sperale di violenza e purtroppo nell'Occidente mancano le forze che possono optare per la pace, purtroppo l'Occidente è completamente ostile all'idea della pace e alle trattative, questa è una cosa drammatica, e l'Occidente sta andando verso la guerra termonucleare, questa è una cosa che sottolineo, io vorrei eliminare completamente questo pensiero, però non posso perché è la realtà oggettiva. Amici, con questa nota triste io vi saluto, vi invito di approfondire le notizie che il nostro mainstream occidentale non vi racconta sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, io ogni giorno seleziono per voi tantissime notizie sul mio canale, video, le fotografie, i reportage dalla prima linea, vari articoli, tutto questo viene selezionato apposta per dare a voi una visione obiettiva su ciò che sta accadendo al mondo. Se volete invece sostenermi qua su mio canale YouTube io vi invito ad iscrivervi al canale, di pubblicare i miei video, di condividere i miei video con i vostri amici e di commentare i miei video. Inoltre qua alle mie spalle vedete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, in questo libro io ho condiviso la storia della guerra in Ucraina, ormai è una guerra che ci riguarda tutti quindi vi invito di approfondire la questione per sapere come, quando e per quale motivo iniziate e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, vi ringrazio per i vostri preziosissimi commenti, tutto questo molto importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene. Grazie a tutti.